Sta toccando le principali piazze del nostro paese l'opera teatrale ideata da Edoardo Silos Labini per ricordare Gabriele D'Annunzio nel 150esimo della nascita. Gabriele D'Annunzio tra amori e battaglie, questo è il titolo di una pièce trattata dall'amante guerrierio di Giordano Bruno Guerri. Silos Labini ne ha ricavato una serie di quadri attraverso i quali ricostruire nei suoi tratti più noti ed essenziali la figura del celebre poeta e scrittore italiano noto per i suoi amori, per l'alto della bellezza, per le sue imprese ma anche per la sua vita dissoluta. Sul palco dell'auditorium della Banca Popolare di Lodi, Giorgia Sinicorni, Alice Viglioglia e Silvia Siravo hanno dato corpo ed anima a tre grandi amori di D'Annunzio. Erika, l'amante parigina, Maria, la madre dei suoi tre figli e Eleonora Duse, la grande attrice italiana con la quale il poeta ebbe una controversa storia d'amore. Tra una donna e l'altra ecco le scene dedicate al D'Annunzio guerriero, quello delle sfide, del duello e quello delle grandi imprese in battaglia. La sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale gli costò anche un occhio. Infine il D'Annunzio dissipatore, sempre alle prese con i debiti che lo inseguono ovunque per farsi saldare le sue spese folli di una vita dissoluta e sempre alla ricerca di denaro. Sul palco ha anche il DJ Antonello Aprea, a lui si devono gli aspetti speciali e la scelta delle musiche. Ho curata la regia affidata a Francesco Sala. Grazie a tutti.